Chiara? Mi riconosci? Sì, sono passati più di vent'anni. Ventisei. Ma come sei riuscita a trovarmi? Ho provato a cercarti su tutti i social, ma non sei da nessuna parte. Poi qualche mese fa sono finita su questa app. Ci ho messo un po' a trovare il coraggio di chiamarti. Ho passato così tanti anni a chiedermi dove fossi o perché fossi sparita dal nulla. Meglio rivederti. Come stai? Papà, è un fin di vita. Ha una leucemia acuta. Non mi interessa questo. Se mi hai chiamato per questo, non chiamarmi più. Ma perché fai così, scusami? Ho pensato che dovessi sapere. Ciao. Allora, grazie. Grazie.